Un capo pesante, se così vogliamo dire, per i Rimini, penalizza la maggiore abilità tecnica dei biancorossi, che in terra Toscana conoscono i più capoi in stagione. Eppure gli uomini di Mastonicola avevano iniziato il match con il piede giusto. Sul traversione di Hop, Ambrosini colpiva la sfera di testa con il portiere adornato che si faceva trovare pronto nella rispinta. Al settimo Ferrante tiene in gioco il pallone sulla linea di fondo e calce in porta da posizione di filata. Adornato controlla la traiettoria, ma la palla prima di finire a fondo campo scheggia la traversa. Ma se di traversa si palla, quando Massetti sfona al centro questo cross, Diop c'entra la parte alta della porta difesa da Adornato. Rimini anche sfortunato. Doveri dall'altra parte innesca una combinazione tra Pegoli e Di Paolo, l'ultimo passaggio per quest'ultimo è impreciso. Pericolo scampato per i centrali difensivi del Rimini. Da calcio piazzato in Querceta si rende pericoloso con Biagini, Scotti è sulla traiettoria. Nella ripresa di Rimini scalda i guantoni da subito ad Adornato, questa conclusione della distanza. Ma dall'altra parte i padoni di casa recriminano per un penalty non sanzionato dal direttore di gara per fallo su Maffini. Maffini poco dopo di testa prolunga un cross per Pegolo che da pochi passi gira al volo, palla di poco a lato. Ma il vantaggio è rimandato in qualche minuto. Biagini mette una palla in mezzo dalla linea di fondo, la difesa cerca di respingere, ma la palla arriva sui piedi di Doveri. Che calcia potente di sinistro. Scotti e un difensore toccano, ma la palla finisce per insaccarsi di potenza alle spalle del portiere del Rimini. La beffa arriva poco più tardi quando Di Paolo in aria stoppa la sfera, fa quello che vuole, rimediando questa volta il penalty per un fallo subito da Gigli. Dagli 11 metri si incarica dell'esecuzione il compagno Guidi, che non sbaglia, trovando il 2-0. Gigli, i peggiori dei suoi rispetto a tre giorni prima, perde palla. Pegolo si invola, mette al centro per Lazzarini, che sfiora il Tris. Si rivede finalmente il Rimini con l'asse Simoncelli-Ambrosini, con quest'ultimo che chiama la respinta e il bravo addornato. Realforte-Querceta che perde Gianni, che rimedia il cartellino rosso. Il Rimini prova a questo punto di tutto per tutto, Simoncelli non inquadra lo specchio della porta. A 96esimo, il Rimini però di mezzo alle distanze, grazie all'incursione in aria avversa di Valeriani, che mette i titoli di coda al match. Il Realforte-Querceta compie l'impresa, dando il benvenuto in Serie D al Rimini.